La collezione d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dopo questi mesi di chiusura a causa delle misure di contenimento dovute all'emergenza sanitaria dal Covid-19, ha riaperto finalmente al pubblico. L'apertura di questa mostra è prima di tutto un messaggio, un messaggio molto significativo. Noi vorremmo dire che ricominciamo la vita quotidiana, ricominciamo ad andare avanti. È chiaro che in questo momento il problema enorme è quello economico, ma non possiamo dimenticare che oltre ai problemi economici c'è anche la cultura, c'è anche la pittura, c'è anche la musica, ci sono anche le arti. In questa mostra, il pittore Alessandrini, che a mio avviso, ma non dovrei essere io a dirlo, è bellissima, merita di essere visitata, è comoda, in pieno centro, nel cuore di Alessandria. Tutti noi passiamo davanti alla fondazione, vorrei dire agli Alessandrini, quando vi capita, provate a venire a vederla. La mostra potrà essere visitata gratuitamente con ingressi contingentati il giovedì dalle 15 alle 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 13. La sede è stata chiusa per un paio di mesi, ha riaperto pochi giorni fa, però ha continuato ininterrottamente la propria attività. In particolare, come ormai è risaputo, siamo stati promotori con la fondazione Solidal della raccolta fondi per l'ASL e l'ASO della provincia di Alessandria, quindi per gli ospedali. Raccolta fondi che ha avuto un risultato per noi strabiliante, che mai avevamo neanche immaginato, oltre un milione di euro raccolti e soprattutto oltre 2.000 offerte, il che vuol dire che la fondazione gode, e di questo siamo onorati e ringraziamo gli Alessandrini, gode della fiducia e della stima degli Alessandrini. Quindi non è al di sopra della società, ma è tra la società.